Nel 1962 il regista americano, ma di fatto apolide, cittadino del mondo, Joseph Losey, licenzia un film per cui si può parlare un po' di un grande fraintendimento cinefilo, anche se forse, inserendolo in questa categoria, compio anche un atto di presunzione, come se io avessi capito tutto e gli altri no. Non lo so, sta di fatto che il film di cui sto parlando è Eva, tratto da un romanzo di uno dei maestri del noir, cioè James Hadley Chase, ed è un film che ha avuto un impatto con la critica piuttosto fallimentare, un film sostanzialmente rifiutato e considerato minore. Non amato, o meglio diversamente amato, diciamo così, dal suo stesso autore, perché il montaggio finale gli è stato sottratto. Fino a poco tempo fa circolava una versione di un'ora e tre quarti, che personalmente trovavo già bellissima, ma è uscito adesso da pochissimo in DVD, io l'ho subito comprato e ve lo mostro, una versione contenente una ventina di minuti in più rispetto a quella che era possibile vedere finora. non sono sicuro che sia esattamente il montaggio voluto da Joseph Losey, ma sicuramente si avvicina molto di più alla versione da lui approvata che non quella vista finora. È un film, come dicevo, considerato minore, io non capisco perché, penso sia invece una delle opere più riuscite di Losey, e per questo lo colloco nella rubrica Eresie. Poteva tutto sommato, con qualche forzatura, entrare anche in profondo nero, ma in profondo nero abbiamo già parlato di Joseph Losey col suo bellissimo noir La Grande Notte. E invece di che cosa parla Eva? Eva è uno studio, diciamo così, sulla figura della Dark Lady, della fan fatale, cioè quella donna che con la sua sensualità trascina alla rovina il maschio, un'amantide, insomma, secondo la tradizione, diciamo, di tanto cinema noir, dalla Barbara Stanwyck di La Fiamma del Peccato a scendere. Però è così estremo il discorso di Losey che a me ha fatto venire in mente un altro cineasta che pure non ha niente, diciamo, non lo voglio accostare a Losey, sono registi diversi, però in questo caso hanno spinto fino all'estremo il pedale proprio di questa figura retorica del cinema. E mi riferisco a Josef von Sterberg che in particolare con un film l'imperatrice Caterina, interpretato dalla musa Marlene Dietrich, creava una figura di fan fatale totale che in quel caso sottometteva non un uomo ma un'intera nazione, diciamo così, parlando di... il film era la storia di Caterina la Grande. Qui che cosa succede? Succede che uno scrittore interpretato da Stanley Becker, che è uno dei volti feticio del cinema di Losey, è entrato nel giro grosso, è entrato nel... un suo film è stato... perdono, un suo romanzo è stato adattato a film e infatti Eva inizia proprio al Festival di Venezia perché siamo nel periodo in cui Losey ha già abbandonato l'America, arrivi in Europa, gira felicemente l'Europa, gira in Italia, in Francia, soprattutto in Inghilterra, troverà asilo dove di lì a poco inizierà la sua collaborazione con Harold Pinter, ci darà i suoi capolavori, forse l'incidente, prima ancora il servo, e gran parte di questo film è girato in Italia e una delle ragioni, diciamo che, bello di vederlo in questa edizione in lingua originale, è anche proprio il melange delle lingue, perché si parla italiano, francese e soprattutto naturalmente inglese in questo film. Riconosciamo Giorgio Albertazzi nel ruolo del regista che adatta il libro di Stanley Becker e una giovane bellissima Vierna Lisi che è la fidanzata di Becker, ma sulla loro strada si metterà questa fan fatale Eva, cioè la donna proprio primigenia, diciamo così, del titolo, interpretata con i suoi grandissimi mezzi da Jean Moreau. Quello che fa la differenza in questo film rispetto a tanti intrecci noir simili è il fatto che Losei, su sceneggiatura di Hugo Butler e Ivan Jones, imbastisce un vero e proprio poema dell'autodistruzione. Cioè, Eva è un personaggio descritto con pochissime, direi, pochissime caratteristiche, pochissimi agganci, caratteristiche psicologiche, è quasi veramente una sorta di di aguzzina e di carnefice totale messa sulla strada di quest'uomo che nasconde dei segreti trattandosi di un'opera canonizzata, io penso di poterlo dire senza problema di spoiler, in realtà è un impostore, il libro che è scritto non è suo, ma di suo fratello, e questo, diciamo, se volessimo fare dello psicologismo spicciolo è anche forse un senso di colpa proprio incancrenito in lui che lo costringe a perseverare dietro a questa donna che lo usa e lo rifiuta, ma nella più assoluta onestà, cioè l'azione demolitrice, devastatrice di Eva, è fatta nella totale limpidezza, nella totale onestà. Cioè, proprio, Eva è una donna crudele, ma non è una donna ipocrita. Ecco, questo è un po' il bello, la caratteristica del personaggio. laddove invece Stanley Becker è un, diciamo, è chiaramente un impostore, cioè un uomo che evidentemente sa di non meritare la propria fortuna e sta vivendo la vita di un'altra persona, ecco, per così dire. È un libro che, è un film, scusatemi, che anche visivamente se la gioca da un lato con tutto l'armamentario visivo di cui Losei è maestro. Per esempio, la sua grande capacità di fare del montaggio all'interno della stessa inquadratura, cioè i suoi film sono sempre molto coreografati, proprio a livello di movimento degli attori, e all'interno dello stesso piano sequenza gli spostamenti degli attori, le loro traiettorie, le distanze anche, che stabiliscono, già raccontano. Non raccontano più dei dialoghi, ci dicono proprio del loro essere all'interno della storia. Ma, dicevo, visivamente Losei arriva a rappresentare la, come dire, la protervia di questo personaggio, Eva, con una scena nel controfinale in cui lei, armata di un frustino, percuote Stanley Baker, quasi fosse proprio una sessione BDSM. questo film avrà anche un remake, tra l'altro, non spreggevole, di Benoît Jacopo con Isabelle Huppert nel ruolo del titolo, e Gaspar Ulliel, se non dico male, da poco scomparso, tra l'altro, nel ruolo di Baker. È un film che, pur essendo, tutto sommato, ripeto, un bel film, ecco, un film che si guarda volentieri, però, però, Jacopo non ha il coraggio di Losei, di spingersi fino in fondo, e tant'è che, per tutto il film di Losei, Eva fa riferimento a un fantomatico marito, che nel film di Jacopo viene messo in scena, viene mostrato, dando, se vogliamo, una motivazione concreta alla crudeltà di Eva, umanizzandola, e questo, secondo me, è una cosa che, che fa perdere credibilità al personaggio, laddove, invece, Joseph Losei ce la racconta, proprio, come una sorta di, di gatta indolente, che gioca con una lucertola, senza sensi di colpa, e felice della propria crudeltà, e questo, spingersi fino in fondo, insomma, è una caratteristica che appartiene al cinema di Joseph Losei, pensiamo, anche soltanto, ai due film che ho citato prima, Il Servo e L'Incidente, che, e che allo stesso tempo, è anche, se vogliamo, una, come dire, una conferma, che è un tratto autoriale, che appartiene totalmente a Losei, perché Il Servo e L'Incidente, come sappiamo, sono scritti da Harold Pinter, quindi sicuramente un'altra grande, un'altra grande mente creatrice, che si somma a quella di Losei, e che, in qualche modo, se ne spartisce i, i, gli esiti autoriali. In questo caso, Losei è solo, diciamo, ha, sì, ha due sceneggiatori, ma sicuramente, meno invadenti di Pinter. Come ripeto, la versione, corta, non ha, non è brutta, come la si dipinge, ecco, se vogliamo usarla ad agio, sicuramente, venti minuti in più, ci ticono ancora di più, e ci portano più vicino, al progetto originario di Losei. Ultima cosa, non l'ho detto, mi sono riferito soltanto all'Incipit, al Festival di Venezia, ma gran parte del film è ambientato a Venezia, è girato sostanzialmente tra Venezia e Roma. Venezia è una delle città più difficili da filmare, quella in cui il rischio di cadere in visioni, così, edulcorato, oleografiche, cartolinesche, è più facile. Non succede qui, anzi, Losei la dipinge come un luogo quasi minaccioso da film gotico, e aiutato anche dalla fotografia del grande Gianni Di Venanzo, uno dei grandissimi direttori della fotografia del cinema italiano, che qui sposa perfettamente la visione noir di Losei. Quindi, Eva di Joseph Losei, forse non annoverabile tra i capolavori, ma comunque, tra i capolavori del regista, ma comunque un film bellissimo, che a mio avviso merita assolutamente di essere ripensato e rivalutato. E per fortuna, per fortuna è uscito in DVD. Tanto vi dovevo, vi auguro una buona giornata.